Per le 14 accuse di guida pericolosa, di danno a un'opera inestimabile e incendio doluso. Ha qualcosa da dire prima di essere arrestato? Ma vede, c'era un'ape. Trevor della House Sitters Deluxe. Ciao, pasticcino, sono papà. Ho trovato un nuovo lavoro. Significa che possiamo ancora andare in vacanza insieme. Ti richiamo dopo. Va via! Va via! Muori! Va tutto bene. Sì, certo. Cosa? Doversale! No